Castelvetrano, confiscati beni di un imprenditore delle scommesse vicino a Messina Denaro. Castelvetrano, coppia arrestata dai carabinieri per produzione e detenzione di stupefacenti. Mascherine al chiuso, Sileri, verso proroga su aerei, negli ospedali e nell'RSA, ma in estate senza. Torno al blog di Salvatore Giacalone. Ben ritrovati cari telespettatori ad una nuova edizione del Tg8 Informazione sul canale 190 di Tele8 in streaming sulle nostre pagine social. Iniziamo subito con una importante notizia di cronaca. A Castelvetrano sono stati confiscati dei beni a un imprenditore delle scommesse, fiancheggiatore del boss Matteo Messina Denaro. Confiscato dalla Direzione Investigativa Antimafia è il patrimonio di Carlo Cattaneo, un imprenditore del settore delle scommesse ritenuto vicino alla famiglia mafiose di Castelvetrano del superlatitante Matteo Messina Denaro. In totale sono stati acquisiti al patrimonio dello Stato beni per circa 300.000 euro. Nell'ambito dell'operazione Anno Zero del 2018, a Cattaneo era stata inflitta una condanna a 16 anni di reclusione. Diversi collaboratori di giustizia avrebbero confermato l'espansione nella Sicilia occidentale di agenzie di scommesse affiliate a siti di gioco online riconducibili all'indagato, il quale avrebbe elargito periodiche somme di denaro utilizzate sia per il sostentamento dei familiari, dell'attitante capoclan di Castelvetrano e dell'organizzazione mafiosa. L'imprenditore aveva organizzato parallelamente a quello legale, spiega il provvedimento, un proprio sito di gioco illegale, lucrando ingenti guadagni con movimentazione di denaro contante e con il sistema Skrill che eludeva la normativa antiriciclaggio sul tracciamento delle ingenti operazioni. La ricostruzione eseguita, dice il giudice, evidenzia le modalità attraverso le quali, pur non essendo inserito organicamente nel sodalizio mafioso, contribuiva in modo significativo al sostentamento economico dell'associazione, entrava in affari con appartenenti all'organizzazione mafiosa castelvetranese, i quali richiedevano un pensiero per familiari di mafiosi in difficoltà. Il provvedimento di confisca ha riguardato l'intero compendio aziendale di due società di capitali e una ditta individuali con sedi a Palermo e a Castelvetrano, operanti nel settore della ristorazione e nei servizi informatici di gestione di sale giochi e scommesse, un appartamento, un appezzamento a Castelvetrano, diverse auto e moto, quattro conti correnti bancari, una polizza assicurativa, depositi e rapporti con istituti di credito, beni già sottoposti a sequestro nel 2019 a seguito di un provvedimento cautelare anticipato emesso dallo stesso Tribunale di Trapani, su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica e del Direttore della Direzione Investigativa Antimafia. I carabinieri della compagnia di Marsala hanno arrestato un giovane classe 96 in atto sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio per presunte violenze degli obblighi della misura cautelare al quale era stato sottoposto. Lo stesso infatti è arrestato in precedenza dei carabinieri della stazione di Ciavolo per furto aggravato in concorso, ricettazione e riciclaggio ad un controllo eseguito dai militari dell'arma presso l'abitazione dove stava scontando la pena ai domiciliari è stato sorpreso in compagnia di un altro soggetto in atto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza. A seguito della violazione il reparto operante ha avanzato la richiesta di aggravamento della pena. L'arrestato al termine delle formalità di rito veniva tradotto dai carabinieri di Ciavolo presso il carcere di Trapani Pietro Cerulli. Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi. A Castelvetrano una coppia è stata arrestata dai carabinieri per produzione e detenzione di stupefacenti. Nel fine settimana appena trascorso i carabinieri della compagnia di Castelvetrano nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio unitamente a personale della compagnia di intervento operativo del XII Reggimento Carabinieri Sicilia hanno arrestato in flagranza due giovani conviventi di 25 e 22 anni per cui si è ritenuto sussistano gravi indizi di colpevolezza in merito all'ipotesi di reato di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri a seguito di segnalazione ricevuta sul via vai di persone da quell'abitazione del centro città hanno deciso di intervenire con una perquisizione domiciliare. Durante l'operazione eseguita dai militari dell'arma sono stati rinvenuti ben occultati al piano terra 150 grammi di hashish, 185 grammi di marijuana, 6 grammi di anfetamine e materiale vario per la coltivazione e confezionamento degli stupefacenti. Al primo piano invece era stata creata una serra domestica artigianale completa di impianti di illuminazione, aerazione e irrigazione che ospitava 12 piante di canapa indiana di altezza pari a 30 centimetri circa. La coppia di presunti spacciatori è stata tratta in arresto e la droga invece sequestrata in attesa della successiva analisi e distruzione. Dopo la convalida degli arresti avvenuta nella giornata di ieri per i due è scattata la misura dell'obbligo di dimora nel comune di Castelvetrano e il divieto di uscire di casa nelle ore notturne. Telecamere attive a Trapani sono state erogate ben 17 multe da 600 euro caduna per abbandono di rifiuti. Sentiamo. A Trapani sono state notificate 17 multe da 600 euro per abbandono di rifiuti in strada. L'attività di contrasto agli illeciti da parte di incivili è stata messa in campo dal comune con la polizia locale e gli ispettori ambientali dell'Associazione di tutela dell'ambiente e degli animali. Decisiva l'attivazione delle telecamere con cui è stato possibile risalire ad alcuni trapanesi che hanno abbandonato rifiuti per strada. Cittadini che, come commenta una nota dell'amministrazione comunale, non solo non hanno a cuore il territorio, ma addirittura insistono, nonostante la raccolta differenziata porta a porta funzioni perfettamente, nel reiterare atteggiamenti delinquenziali che recano un grave danno a tutta la comunità. Il comune ha anche diffuso un video sulla sua pagina Facebook istituzionale mostrando una donna di spalle che abbandona un sacchetto delle immondizie in una piccola discarica sul ciglio della strada. Non abbiamo nessuna intenzione di allentare la presa e al contrario, con le telecamere e il lavoro certosino degli ispettori ambientali che ringraziamo, continuiamo a sanzionare soggetti che sporcano il territorio con grave danno d'immagine anche agli occhi dei turisti, oltre che dei trapanesi. Questo è quanto hanno dichiarato il sindaco Giacomo Tranchida e l'assessore Nini Romano. Parliamo invece di Regione. Sarà pubblicato domani un avviso pubblico per l'avvio di un progetto innovativo per la fornitura di cannabis terapeutica da utilizzare in campo medico. Lo riferisce l'assessore regionale all'agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea Tony Scilla. Bisognerà comunque attendere, prosegue l'assessore, il rilascio preventivo delle autorizzazioni alla sperimentazione da parte del Ministero della Salute. Dopo aver individuato con la procedura di evidenza pubblica il partenariato che abbia le adeguate competenze tecniche, professionali e finanziarie per la realizzazione dell'intera filiera, la Regione si attiverà richiedendo l'autorizzazione preventiva per lo sviluppo del progetto. L'assessore conclude che da un lato quindi saremo in grado di rispondere alle richieste derivanti dal fabbisogno accertato delle autorità sanitarie nazionali di produzione di cannabis terapeutica. Dall'altro lato invece potremo così offrire una nuova occasione di reddito agli agricoltori siciliani. Parliamo di Covid, mascherine al chiuso. Il sottosegretario Sileri annuncia che ci sarà una proroga su aerei negli ospedali e nell'RSA, ma si provvederà a toglierle all'interno dell'estate. L'uso delle mascherine al chiuso in scadenza il 30 aprile potrebbe essere prorogato in alcuni casi su mezzi di trasporto come aerei e treni, ma anche negli ospedali, nelle RSA e in alcuni uffici a particolare rischio di assembramento. Questo è quanto afferma il sottosegretario della salute Pierpaolo Sileri. La proroga tuttavia sarebbe di qualche settimana in assenza di cambiamenti della situazione epidemiologica legata al Covid, ma come sottolinea il sottosegretario si prevede un'estate senza l'utilizzo delle mascherine. La decisione del governo è attesa in settimana. Sicuramente elimineremo la mascherina in tantissime circostanze e questa settimana ovviamente verrà data comunicazione di dove andranno, o non andranno utilizzate, è quanto ribadisce Sileri, ma è chiaro che dobbiamo abbandonarla con progressività. Il mio consiglio, aggiunge il sottosegretario, è teniamole nelle tasche perché laddove c'è assembramento o possibile circolazione del virus o qualcuno raffreddato, possiamo infilarcela. L'avvio di un ponte scuola lavoro tra la Sicilia e l'Alto Adige è stato il tema dell'incontro organizzato a Monreale per approfondire l'intesa Feder Terziario HGV firmata lo scorso febbraio e destinata già dalla prossima estate a indirizzare ben 80 studenti isolani selezionati da Feder Terziario Sicilia nelle strutture alberghiere alto e tesine indicate dall'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti per lavorare e specializzarsi col contributo della Regione Siciliana che si farà carico delle spese di mobilità. Ascoltiamo la dichiarazione dell'avvocato Antonio Giulio Alagna delegato alle relazioni industriali per la Regione Siciliana e presidente provinciale di Trapani del Feder Terziario. L'incontro che si è tenuto presso la Casa del Sorriso di Monreale è stata una vera e propria occasione pratica per valutare a bocce ferme le opportunità di offrire ai giovani siciliani degli enti formativi aderenti a Feder Terziario. Il risultato dell'incontro dal titolo Un Ponte Scuola Lavoro Studenti della Sicilia all'Alto Adige ha concretizzato l'intesa tra Feder Terziario con il colosso HGV al fine di dare vere e proprie opportunità di lavoro e di specializzazione ai giovani siciliani in un momento storico molto particolare. Non è tanta la voglia di mandare via la gente della nostra amata terra ma quella di formarli con supporti di altissimo livello e di dare loro l'opportunità di tornare in Sicilia con la preparazione e l'esperienza acquisita. Vogliamo segnalare numerosi incoraggiamenti e ringraziamenti ricevuti per l'iniziativa dalle massime autorità e tra questi ci onorano quelli pervenuti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella persona del Ministro Andrea Orlando. Decisivo inoltre l'apporto dell'istituzione e in particolare della regione siciliana che è parte integrante di questo partenariato tra pubblico e privato. Il progetto da noi avviato si prefigge di sfruttare al massimo la potenzialità di aree del paese che vivono spesso esigenze completamente diverse l'una dall'altra. Un ringraziamento pubblico lo voglio rivolgere al Presidente Regione di Feder Terziario e Avvocato Antonino Arreina per l'innata lungimiranza e per la forza e la determinante passione con cui senza risparmio di energia ha reso possibile tutto questo. Il distretto della Pesca e Crescita Blu presieduto da Nino Carlino sta portando avanti due importanti iniziative in Spagna. La prima missione è stata organizzata nella zona di Cantabrico dove vi è una produzione di qualità di tonno ed acciughe. L'obiettivo della trasferta è stato quello di stringere nuovi accordi commerciali ed invitare una delegazione di produttori a partecipare alla prossima edizione del Blue Sea Land di Mazzara del Vallo che si terrà dal 9 al 13 settembre 2022. Attualmente inoltre il Presidente Carlino si è recato a Barcellona dove dopo due anni di inattività è ripartito il Sea Food Expo. Il distretto della Pesca e Crescita Blu prende parte alla Fiera Internazionale con ben sei aziende che si occupano di trasformazione e di prodotti congelati. Si tratta delle ditte Blue Ocean, Carlino SRL, Drago Sebastiano, Lanza Sea Food, Sicilia, Imbocca e Medimar. Il mazzarese Roberto Giacalone è invece stato nominato nuovo segretario generale della Huila Trapani. Roberto Giacalone, 43 anni di Mazzara del Vallo è il nuovo segretario generale della Huila Trapani, la categoria che si occupa dei lavoratori agroalimentari, forestali e della pesca. È stato eletto all'unanimità ieri in occasione del settimo congresso di categoria che si è svolto a Trapani. Insieme a lui sono stati chiamati a far parte della segreteria Tommaso Macaddino, Vita Angileri, Antonino Aleo e Giovanni Tantaro. Ai lavori del congresso hanno preso parte, tra gli altri, la segretaria generale Huila Pesca Enrica Mammucari e il componente della segreteria regionale Huila Sicilia Enzo Savarino. Il lavoro nei settori dell'agroalimentare e della pesca, ha affermato Giacalone, rappresentano oggi più che mai un traino importante per l'economia trapanese. I lavoratori di questa categoria, pertanto, devono ricevere tutte le giuste tutele che gli spettano, dovendo affrontare quotidianamente un lavoro che porta con sé una serie di rischi per la salute e per l'incolumità personale. La Huila, negli anni, ha seguito sul territorio provinciale numerose avvertenze e continuerà a farlo per tutelare occupazione e diritti dei lavoratori. Tumbarello subentra al segretario uscente, Tommaso Macaddino. Parliamo di ricorrenze, si terrà a Mazzara del Vallo, martedì 10 maggio alle ore 11, l'inaugurazione della Casa Fraterna Santa Teresa di Calcutta e Beata Vincenza Maria Poloni, destinata all'accoglienza gratuita di donne in difficoltà e con figli minori. L'immobile è stato recentemente ristrutturato e arredato grazie ai fondi dell'8 per 1000 e ad alcune donazioni private. La casa è di proprietario dell'opera di religione Monsignor Gioacchino Di Leo e si trova in via San Giovanni numero 18. Benedirà i nuovi locali arredati il Vescovo Monsignor Domenico Mogavero. La struttura potrà ospitare sino a 13 persone. Sempre a Mazzara del Vallo si terrà questa sera alle ore 19 presso la Basilica Cattedrale di Mazzara del Vallo una messa in suffragio della giovane Morgana Bono. La 17enne è rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto lo scorso 25 marzo nel tratto della Statale 115 che collega Mazzara a Campobello di Mazzara. Al termine della messa di questa sera gli amici e i compagni lasceranno volare in cielo dei palloncini in ricordo di Morgana. Anche questa settimana torna invece il blog di Salvatore Giacalone dal titolo Il Naufragio della Politica. Un tempo la politica aveva il compito e il dovere di indicare soluzioni e di trovare anche risposte. Oggi la politica vive indicando nemici spesso e volentieri anche immaginari e facendo delle domande. La politica è il più alto compito che un uomo o una donna ovviamente possono assolvere e lo deve svolgere con completo senso di servilismo verso l'interesse del Paese non verso un partito o verso la pancia degli elettori verso una piattaforma web o nell'interesse personalistico. Ogni giorno siamo riusciti ad elevare a valore politico la caccia alle streghe cioè al nemico e l'indicare sempre e comunque uno scuro avversario che trama nell'ombra contro abbiamo elevato l'ignoranza sdoganandola dai bar e dalla piazza abbiamo alzerato il valore culturale il merito e la competenza dando parola a chiunque soprattutto su argomenti e questioni di cui non sanno niente. Abbiamo scelto di inseguire la mediocrità come panacea per non mostrare le nostre mancanze abbiamo criminalizzato il talento e il merito poiché evidenzia la nostra incapacità. La politica doveva inseguire l'eccellenza doveva essere in sostanza la risposta ai problemi del popolo e del paese oggi la politica è solo uno strumento uno strumento per fare carriera uno strumento per mantenere il consenso non importa cosa di concreto si realizza l'importante è solo dare la percezione di fare la politica così come oggi la interpreta la nostra classe dirigente altro non è che una battaglia tra galli anche spennati se vogliamo che strilano e si beccano tra loro rimpallandosi responsabilità colpe, accuse, eccetera senza avere il coraggio di prendere in mano questa difficile situazione e proporre soluzioni e risposte concrete non si può governare né fare opposizioni puntando il dito e in vendo oggi contro uno domani contro l'altro ci stiamo preparando ad una elezione difficile in palio c'è il futuro della Sicilia ed oggi anziché parlare del fare si parla di scontri all'interno di coalizioni di papabili candidati sparando alla cieca tanto per fare rumore lo immagino io immagino invece un'altra politica silenziosa, concreta educata, credibile meritocratica e competente l'apparenza è nemica del fare ma la politica tutti vogliono la passarella per fare poi si vedrà c'è tempo nel frattempo volano i pacchetti di promesse quasi mai mantenute alla prossima apriamo un'ampia pagina di sport Gesa con Fly Volley Marsala Negroni Service Zafferena Etnea finisce 3 a 0 ultimo match casalingo e vittoria meritata per la Gesa con Fly Volley di Marsala che regala in tre set la Negroni Service Zafferena Etnea grazie ai parziali 25-14 25-20 25-16 il recupero della quattordicesima giornata divenuta penultima di campionato giocato in un pala bellina al 100% di presenze di pubblico non delude le aspettative e consegna una Fly Volley in piena forma che convince in tutti i fondamentali consapevole di possedere le giuste carte per venire a capo di un match che si presentava insidioso per l'importanza della posta in palio a cui le etnee ambivano per la lotta alla salvezza sempre a proposito di pallavolo la Sigel Marsala a guida di Marco Bracci cede il passo per la prima volta in questa post-season dopo un'imbattibilità che persisteva da ben quattro turni con le libetane che comunque muovono ugualmente la classifica per la quinta partita di fila su 5 di Pol al Palacatania una defilanza indolore di misura di Marsala nel derby siciliano terminato al tee break contro le padrone di casa della Rizzotti Design la città di Mazzara del Vallo sarà rappresentata dalla storica squadra amatoriale Old Soccer Team al torneo calcistico trofeo città di Iesolo organizzato dalla IFS dal 29 aprile al primo maggio torneo nazionale e amatoriale di calcio a 11 dedicato alla categoria seniors che si svolgerà presso i centri sportivi a Iesolo e nella città limitrofe con la partecipazione di diverse istituzioni locali a proposito ancora di calcio ieri pomeriggio allo stadio Nino Vaccara di Mazzara del Vallo si è disputato il match tra la SC mazzarese e la Salemi polisportiva un primo tempo un po' indolenzito per i giovani gamberi di Mazzara che subiscono da subito un gol riuscendo però a pareggiare entro la fine del primo tempo seconda parte del match completamente diversa con la mazzarese che si guadagna altre tre porte aggidicandosi così altri tre punti e chiudendo il campionato Juniores Under-19 Girone di Trapani con ben 39 punti con questo risultato la Juniores mazzarese si aggiudica definitivamente la vittoria del campionato seppur matematicamente la vittoria era stata già confermata la scorsa giornata Pineta Padol di Mazzara campione provinciale della Coppa Italia è terminata qualche giorno fa la fase provinciale oro della Coppa Italia del Padol dopo diverse partite conquistano il pass per le fasi regionali Pineta Padol di Mazzara e Madbox Alcamo mentre per quanto riguarda il titolo di campione provinciale è stato conferito a Pineta Padol di Mazzara ed era questa l'ultima notizia del nostro notiziario odierno vi ricordiamo che da giorno 4 maggio Teleotto sarà visibile sul canale 117 non più sul canale 190 vi lasciamo con il nostro servizio sui dettagli della risintonizzazione e vi diamo appuntamento ad una prossima edizione del TG8 informazione la tv cambia e tu sei pronto al cambiamento con il nuovo digitale terrestre sono in arrivo grandi novità risintonizza il tuo televisore troverai Teleotto sul canale 117 ecco le date per lo switch off nelle province siciliane Trapadi dal 4 al 6 maggio Palermo dal 3 al 6 maggio Agrigento dal 2 al 6 maggio Caltanissetta 2 e 3 maggio Enna 3 maggio Ragusa dal 29 aprile al 2 maggio Pantelleria Lampedusa Linosa Ustica 10 maggio ricorda Teleotto la trovi sul canale 117 del digitale terrestre seguici anche sul web teleottotv.it o su tutti i social Teleotto canale 117 del nuovo digitale terrestre Teleotto 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 Grazie a tutti.